è appena finita la prima semifinale come sistemo meglio la telecamera la prima semifinale di questo mondiale 2022 con il risultato che era quello più gettonato cioè il successo dell'argentina di leo messi per 3 a 0 con le reti proprio su rigore di messi alla minuto 34 in un momento della partita tra l'altro particolare perché l'argentina non aveva fatto assolutamente niente per segnare anzi erano i croati a fare la partita e qua avviene entra in scena orsato di schio orsato di schio abito italiano che sicuramente sapete che l'argentina l'argentina è un popolo un paese che è molto vicino all'italia ci sono tantissimi argentini che di fatto proprio sono italiani nel senso gente che è emigrata in argentina poi ha fatto dei figli eccetera eccetera nipoti eccetera eccetera lo vediamo anche dai cognomi comunque io dico questo la croat allora andiamo con ordine andiamo in assoluto procediamo con le formazioni per poi arrivare al momento culminante di questo caccio di rigore perché voglio inquadrare meglio la partita per chi si vedrà poi il video anche fa qualche giorno che non ha visto la partita eccetera allora argentina allenata naturalmente da scaloni indisponibili a cugna montiella per squalifica e gomez e il papu gomez per infortunio si schiera in campo con uno scolastico 4 4 2 con emiliano martinez portiere dell'aston villa in porta molina romero tamendi e tagliafico che ha appunto sostituito a cugna quindi molina gioca nell'atletico madrid romero del tottenham otamendi gioca nel benfica e tagliafico nel lione la mediana rodrigo de paul de paul giocatore che conosciamo molto bene per averlo visto nell'udinese parete è stato giocatore che in italia conosciamo molto bene giocatore della juventus enzo fernandez del benfica e mccallister che è un giocatore che mi è piaciuto proprio stasera non è molto utile stato del brighton e davanti messi e alvarez julian alvarez che è stato uno dei grandi protagonisti di questo argentina croazia 3 a 0 attaccante giovane attaccante del manchester city la croazia di dalic ha risposto con uno schieramento 4 1 2 3 con l'ottimo livakovic tra i pali estremo diventore della dinamo di zagabria le dico queste cose perché soprattutto i giocatori croati sono proprio molto conosciuti in italia dove giocano diciamo perché è chiaro che magari molti non sanno che juranovic il testino destro gioca nel celtic per la difesa juranovic lovren guardiol sosa lovren gioca nello zenith di san pietroburgo guardiol gioca nell'ipsia in bundesliga e sosa anche in bundesliga nello stoccarda davanti a questa difesa ha agito marcello brodovic e poi davanti a lui a destra modric e a sinistra kovacic che abbiamo visto giovane troppo giovane ai tempi nell'inter oggi gioca nel celtic e poi a destra pasalic il centravanti è stato l'evanescente kramaric del loffenheim e perisic van perisic sia schierato a sinistra kramaric dicevamo è così sicuramente il punto debole di questa squadra la croazia ha pagato tantissimo questo fatto di non avere un centravanti ragazzi parliamo di una squadra che arriva alla semifinale mondiale con una sola vittoria maturata contro il canada poi tanti pareggi e due passaggi del turno ai calci di rigore contro giappone e brasile e poi la batossa di stasera con l'argentina la croazia per come vedo le cose io ha sbagliato tattica nel senso che loro hanno provato a fare la partita io non ho capito se l'argentina che ha permesso alla croazia di fare questo tipo di partita per poter sfruttare poi le ripartenze tutto sommato senza correre troppi rischi oppure se è proprio la croazia che ha imposto il gioco e l'argentina sia adeguata questo non l'ho capito quello che si è visto che la croazia però ripeto davanti è un po spuntata manca proprio una prima punta di efficacia e poi quando la partita era io ragionavo le persone che erano con me dicevamo tutti ma questa è un'altra partita che va a rigori questa è un'altra partita che va a supplementari questa è un'altra partita equilibrata non stanno tiri in porta e poi arriva al minuto 33 alvarez lanciato a rete esce l'ivakovic sicuramente un errore in zona centrale da parte dei croati che sbagliano poi anche nel secondo gol di alvarez che è stato giocatore in questa partita decisivo devastante forse anche più di messi nel senso che procura rigore segna segna il secondo gol che ha ucciso completamente la partita segna anche poi il terzo su grandissima azione personale di leo messi dicevamo allora di alvarez l'attaccante julian alvarez che dritto per dritto affronta l'ivakovic in uscita e lo scavalca con un mezzo pallonetto che è un po mosso non non si alza bene sta palla che colpita bene finisce in porta ha ormai scavalcato il portiere essendo questo pallonetto troppo corto resta diciamo lì all'altezza dell'area piccola arriva un difensore croato e la butta fuori sulla corsa l'ivakovic va addosso a alvarez perché va addosso a perché lui probabilmente pensava alle spalle di non avere un suo compagno di squadra quindi cercava di ostacolare alvarez che avrebbe potuto secondo lui probabilmente a una mia interpretazione recuperare il pallone che lo ha scavalcato e permetterlo in porta però il punto è questo che l'azione sul tiro di alvarez per me è finita cioè alvarez ha tirato e il difensore respinge cioè la butta fuori sulla corsa l'ivakovic va addosso alvarez io la interpreto così questa azione ma sono tutti così più o meno stati i rigori che ha preso l'argentina in questo mondiale praticamente una partita ma la musica che si hanno obviato un rigore a partita allora voi mi potrete dire ma sì ma l'argentina ha vinto 3 a 0 si è dimostrata superiore eccetera eccetera eh lo so ma l'argentina ha spaccato la partita con questo rigore perché anche il secondo gol arriva da un momento di sbandamento proprio della croazia che loro sono stati bravi anche ad approfittarne anche fortunati perché ci sono stati dei rimpalli abbastanza fortuiti nella percussione centrale da parte di alvarez cioè lì c'è anche un po di fortuna è stato bravo per carità credeci sempre comunque 2 a 0 sul 2 a 0 è chiaro che la gara pericolata è diventata anche al vario perché andare a riprendere due gol che già è successo tra l'altro c'erano usciti gli olandesi nella precedente partita rimontare due gol in due partiti consecutivi all'argentina diventava abbastanza problematico insomma statisticamente difficile e infatti così è stato nel secondo tempo è andato tutto come doveva andare l'argentina ha controllato bene messi ha trovato anche più spazio per le sue giocate perché loro erano costretti a venire avanti e quindi sono visti anche i limiti della croazia che se deve andare a rimontare la partita eccetera eccetera ha questo problema realizzativo diciamo pur giocando bene perché è una squadra che non gioca assolutamente male è una bella squadra la croazia un paese di 4 milioni di abitanti pensate un po che si è tolta la soddisfazione quattro anni fa di arrivare in finale a un mondiale quattro anni dopo di arrivare in semifinale ora si giocherà anche un'ultima partita che si giocherà la finale del terzo quattro posto con la vincente diciamo tra francia e marocco e qua devo aprire anche una parentesi su quello che è diventato un po anche il giornalismo italiano perché io sto qua non è che me paga me la gente per stare qua lo faccio per passione però c'è gente che viene pagata da noi tra l'altro dalla rai e che diceva in radio cronaca perché ho visto come faccio spesso la partita in televisione senza audio anche perché poi oggi il teleconista senza voce e mi sento la radio cronaca però sono state dette un po di inesattezze è stato detto ad esempio che modric e alla sua ultima quando è uscito ha detto che la sua ultima partita in un mondiale la sua ultima presenza eccetera mentre non è vero perché non c'è stata ancora la partita appunto la finalina del terzo quarto posto quindi già un'informazione questa sbagliata però a parte quello loro hanno fatto uno strafaccione oggi in rai perché hanno detto che ottamendi e romero essendo stati ammoniti erano squalificati per la finale quindi sono stati un quarto d'ora a fare gli amici repice massimo orlando a fare le ipotesi su quali giocatori avrebbero potuto giocare in finale al posto di romero tamendi eccetera poi a certo punto qualcuno ha detto guardate che come qualcuno ha fatto a me nel video precedente uno di voi adesso mi sfugge il nome di chielo scusa ma ha precitato guarda che poi nella semifinale le ammunizioni si azzerano quindi le ammunizioni precedenti non contano quindi se viene ammonito in sostanza in semifinale poi giochi anche la finale anche se c'era in ammunizione prima quindi poi gliel'hanno spiegato e hanno corretto hanno rettificato erano un po' mortificati massimo orlando si è preso tutta la colpa lui ma in realtà era chi conduceva il programma io doveva vabbè comunque per dire insomma che c'è anche sempre ma sempre una crescente confusione diciamo perché le regole sono tante insomma e le partite sono si gioca continuamente tutti pensano di sapere tutto poi invece non è così ma torniamo alla alla partita messi diciamo fa un grandissimo la grandissima azione in occasione del terzo gol mi fa veramente una grandissima azione perché va via di forza e di velocità di capabilità a un giovane difensore forte come gladiol e lo umilia sulla fascia lo salta poi rischia con uno scavetto resiste al suo ritorno e poi mantiene la lucidità come solo messi negli spazi poi che si fanno più stretti riesce a fare e da una bella palla all'indietro che se ricordo bene passa anche tra le gambe del difensore per la corrente alvarez che di interni di piatto destro piaccia la palla alla destra di livakovic 3 a 0 quindi partita finita c'è tempo e modo finalmente rivedere in campo la gioia a gioia il nostro gladiatore paolo di bala che subentra e lo vediamo finalmente tra l'altro dialogare subito molto bene commessi da una gran grandissima palla a mccallister su una punizione battuta sorpresa cerca di servillo di tacco la palla però viene respinta lui subito ritrova la coordinazione e di prima serve un assist per mccallister tira fuori di bala insomma giocatore subito come entra in campo si vede nettamente insomma la sua qualità un mistero perché non è stato impiegato fino a questo momento quindi l'argentina ragazzi è una squadra che fin dall'inizio insomma anche i media come da danni per finire alla gazzetta dello sport hanno molto pompato hanno era una delle squadre che io credo che il ragionamento sia stato questo come dicevo prima l'argentina è una nazione molto italiana questa è la chiave di lettura sono tantissimi italiani in argentina eccetera eccetera ci sono giocatori giovano il nostro campionato ce ne sono diversi in quadri molto importanti di maria e lautaro che oggi non hanno giocato di bala lo stesso depol è stata l'udinese quindi ci si poteva anche identificare in questi giocatori c'è leo messi che è considerata la stella ormai di questo mondiale tutto quanto quindi si è cercato di pompare in questa direzione si è capito che l'andazza era quello un po tutti ad un certo punto sono saliti chi più chi meno chi prima chi dopo sul classico carro del vincitore arbitri compresi mi sembra a questo punto perché se andiamo a rivedere i rigori sono salitari a questa argentina non è che siano stati sempre così evidenti insomma comunque insomma l'argentina è arrivata in finale ragazzi la storia è questa 3 a 0 è un risultato che non ammette troppe repliche io vorrei rivedermi questa partita con scelte tattiche da parte di dalice differenti cioè una croazia chiusa per me ha sbagliato tattica ad aspettare e a far passare i minuti giocando a viso aperto erano arrivati indenni al trentatresimo e quindi giocando chiusi secondo me avrebbero potuto giocarsi molto meglio le loro carte ma ripeto loro hanno pagato questa difficoltà proprio ad andare in rete l'argentina se noi andiamo a vedere un po quello che ha fatto in questo mondiale si potrebbe dire che ha toppato completamente la prima partita per poi riprendersi gradualmente migliorando sempre ma in realtà non è così perché in realtà l'argentina nel primo tempo contro l'arabbia saudita aveva testato una grande impressione perché segna un gol ma gliene vengono annullati 3 la squadra finisce un sacco di volte tra l'altro in fuorigioco in una proiezione costante all'attacco che mette seriamente in difficoltà l'arabbia saudita che tuttavia nel secondo tempo probabilmente perché gli argentini hanno considerato già chiusa quella partita si sono proprio deconcentrati e è riuscita a ribaltare il risultato ma in fondo pur soffrendo tantissimo soprattutto con il Messico che con grande difficoltà sono arrivati al gol piano piano hanno poi recuperato e piano piano insomma stanno certamente hanno dovuto soffrire molto contro l'Olanda ma non è una squadra immune da critiche nel senso non è una squadra come per esempio la Francia che davvero è forte in attacco in difesa da tutte le parti è una squadra che ha alcuni giocatori che possono fare indubbiamente la differenza però c'ha anche dei limiti soprattutto in difesa ha dei limiti l'argentina e stasera è andata bene perché come dicevo la Croazia manca proprio di un centravanti di un certo livello vedremo questa difesa albiceleste contro Mbappé e Giroud se arriva la Francia in finale come si disimpegnerà è normale che domani sera la grande favorita di Francia-Marocco è la Francia perché la Francia è più forte, c'è sta poco da capire ne abbiamo viste di tutti i colori in questo mondiale però è proprio perché ne abbiamo viste di tutti i colori che anche il Marocco potrebbe avere finito un po' le pile insomma le batterie insomma per mantenere sempre così alto la concentrazione, la corsa eccetera però solo il campo lo dirà se il Marocco dovesse ripetere le prestazioni delle ultime partite allora la partita potrebbe anche essere aperta o meglio potrebbe essere chiusa nel senso che potrebbe chiudersi molto in difesa e creare veramente grossi problemi alla Francia ma quando la Francia passerà in vantaggio se passerà in vantaggio succederà un po' quello che è successo stasera tra l'Argentina e Croazia perché lì loro dovranno per forza venire avanti e saranno veramente dolori perché lì veramente in quella situazione lì Mbappé non si tiene non si tiene proprio quindi è un mondiale bello è un mondiale ripeto mi sembra un po' orientato ecco tutto sommato avrei preferito che il Brasile non uscisse con la Croazia perché stasera avevamo visto un'Argentina a Brasile e sarebbe stata una partita spettacolare sarebbe stato veramente interessante vedere queste due squadre a confronto sarebbe stato molto interessante per esempio vedere la consistenza della difesa argentina al costetto di giocatori molto tecnici come i vari Neymar Vinicius Richarlison eccetera sarebbe stato molto interessante per testare proprio la solidità di questa difesa che secondo me non è così solida comunque diciamo che alla fine della fiera è il mondiale di Leo Messi questo è il discorso il mondiale di Leo Messi l'Argentina non vince un mondiale dall'86 come mi ricordava Stefano l'Argentina arriva in finale anche nel 90 che perde in Italia con la Germania quindi in due finali consecutive che io in un video dicevo non mi ricordo di una squadra di due squadre che arrivano in finale le stesse squadre per due tornei consecutive invece è successo 86-90 è Germania-Argentina in un caso ha vinto l'Argentina ha leccato nel 90 vince naturalmente la Germania all'Olimpico con il famoso gol sul calcio di rigore di Bremer per fallo su Rudy Feller se mi ricordo bene nel 90 poi c'è stato un'altra finale mi pare quella finale sempre con la Germania che segnò Gozze se mi ricordo bene vinse 1-0 la Germania mi pare supplementare con il gol di Gozze se mi ricordo bene l'anno in questo momento mi pare che fosse il 2014 potrebbe essere il 2014 comunque insomma quella finale ve la dovreste ricordare e adesso c'è un'altra finale a 36 anni dall'ultimo titolo mondiale conquistato è chiaro che loro hanno un peso una pressione da parte di tutti addosso che è impressionante questo potrebbe essere anche uno svantaggio perché la Francia se arriverà in finale se arriverà in finale perché ripeto in questo mondiale abbiamo visto tutti i colori viene da campione del mondo arriva in finale un'altra volta c'ha solo da guadagnare questa finale ma chi gli dice niente voglio dire sei campione del mondo quattro anni fa arrivi in finale perdi magari con l'argentina di Messi eccetera ci può anche stare insomma quindi il peso sta tutto su Messi sull'argentina l'ultimo mondiale di Messi che è capocannoniere che ha segnato tutti questi gol quasi tutti su calcio di rigore rigore tirato molto bene tra l'altro oggi è un rigore pesante molto pesante nelle ultime solo nelle ultime due partite ha tirato tre rigori Messi uno all'Olanda su azione molto bello anche quello poi uno nella serie finale dei rigori è stasera un altro rigore quindi sta si sta rifacendo con gli interessi per tante critiche che ha ricevuto in passato per alcuni rigori sbagliati con la maglia nazionale come ricordereteci sicuramente il rigore Baduro molto bene lui sapeva che Livakovic è un pararigori quindi non si è accontentato di tirare forte angolato perché sa che se Livakovic intuisce l'angolo può parare quindi ha preso dei rischi perché ha messo la palla all'incrocio dei pali quindi molto forte alla finita del portiere quasi sotto la traversa e quindi ha tirato un rigore anche molto forte come dicevo ha tirato un rigore da campione sicuramente ha dimostrato personalità non è andata a fare il compitino perché sapeva che per il momento della partita è arrivata anche un po' sorpresa perci vedere ci è visto anche da come esultavano i tifosi argentini in tribuna che stavano vivendo una serata difficile la partita era molto complicata con questa Croazia che fin dal primo minuto aveva preso campo e aveva cominciato a sviluppare gioco un po' siamo rimasti tutti un po' così ammazza è la Croazia che fa la partita io pensavo che l'argentina invece avrebbe cercato di attaccare fin dall'inizio ma invece è proprio evidentemente Scaloni l'ha preparata così 4-4-2 molto coperto e lanciare negli spazi anche attraverso Messi Alvarez in velocità è stata questa la strategia che è stata vincente quindi bisogna dire bravo perché la strategia ha funzionato indubbiamente anche se agevolata ripeto da una difesa croata che sia in occasione del rigore che in occasione soprattutto del secondo gol non è che sia stata brillantissima assolutamente e anche nell'occasione del terzo gol Guardiol deve fare fallo lì a un certo punto è un errore pure quello perché non puoi permettere a Messi di girarti di portarti da quella posizione da cui è partito fino all'interno dell'area di rigore in quella maniera devi fare fallo e basta c'è sta poco da fare su 2 a 0 purtroppo evidentemente la concentrazione di Guardiol era un po' scesa perché altrimenti perché Messi è più rapido ma tu lo sai che è più rapido appunto te devi rifugiare in un fallo tattico la Croazia ha pagato queste ingenuità queste ingenuità strampostrane difensive perché come ho detto anche nei video precedenti purtroppo la Croazia è una squadra lunatica loro possono battere eliminano il Brasile che magari non ci credeva nessuno però nella partita successiva i tre gol sono tre errori difensivi infatti in zona centrale Rumi 2 e sulla fascia sinistra il terzo cioè ci sono delle imprecisioni dei vuoti dei varchi che vengono lasciati che a questi livelli non si possono lasciare perché come ho già detto tante volte nei video precedenti in un campionato del mondo se tu sbagli una cosa al limite dell'area non stop una marcatura quello che sia prendi gol a questi livelli prendi gol ci sta poco da fare infatti hanno preso gol i tre gol dell'agentina sono un 50% di bravù argentina e un 50% di defiance e di errori croati comunque insomma il mondiale si avvia alla fine io egoisticamente dati voto della Roma devo dire la verità Di Bala ha giocato a sto punto dato che della Francia sinceramente mi interessa poco mi prendo l'agentina campione del mondo e mi prendo il sesto campione del mondo con la maglia della Roma dopo Bruno Conti Totti De Rossi Aldair e Zonzi e anche Zonzi e il sesto Di Bala perché Di Bala che torna secondo me a Roma da campione del mondo gli auguro di giocare anche la finale magari segnare pure il gol decisivo gli auguro con tutto il cuore anche oggi mi sembra che abbia fatto vedere quello che è il suo livello tecnico nelle poche palle che ha giocato è chiaro che arriverebbe un giocatore carico a pallettoni per il giorno di ritorno un giocatore che fa un discorso anche terra a terra varrebbe anche molto di più a livello di cartellino perché sendo campione del mondo voi capite quanto sale il valore di questi giocatori quando li vai a vendere questi non è che ti portano le chiacchiere ti portano i titoli dei campioni del mondo quindi immaginate sarebbe secondo me anche per la Roma come è lui ormai l'uomo immagine della Roma è chiaro i giocatori più forti è un campione quindi se se ne torna a sto punto ho visto l'Italia non c'era eccetera eccetera tra l'altro molti giocatori della Roma i pochi giocatori della Roma che erano Presidente Molinano ha giocato pochissimo come per esempio Rui Patricio che non ha giocato mai Taleschi anche ha giocato poco quindi Di Bala ha giocato solo stasera se però mi torna a casa con titolo di campione del mondo ben venga ben venga perché insomma penso che lui tornerebbe veramente ha giocato poco quindi non ha preso tanti colpi in questo mondiale penso che tornerebbe con un morale veramente molto alto domani sera ci aspetta Francia-Marocco e così conosceremo quale sarà la coppiata finale del mondiale di Qatar 2022 ci vediamo domani